Il secondo classificato La poesia di Raffaele sembra avere una pubblica identità da una parte è rara e si comparata un po' di bene e cose male dall'altra l'effetto della grossa favorezza della strata lotta d'un professione sottisce così una poesia da Spalenti come voce di un giro in fretta da niente contro diventi misure contro una vita griglia di regalo una sorta di speranza l'inverso è una fusione tra il drama e la reale immagine di preghetto è comunque un sistema casa che è tutto l'altro coordinata e precisa è anche la scelta di terra che accompagna la notificabilità di questa rosina col dito puntato questa è una rapida ma su lui ha vuotato l'amico la carabina col bavero alzato ingrossando la voce all'amico girato e ora ha una croce per uno scherzo malnato fra il tese inopportuno dal destino driblato di risate di giù ti hanno sparato per un tragico errore chissà dove sei andato fai il calciatore grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti